Il bello è il calcio Flavio Slay Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato per quanto riguarda il gruppo Autoscala di Agnano abbiamo parlato delle Peugeot 2008 questo è il mese della Citroën quindi della gamma Citroën abbiamo il 40% di sconto direttore, la settimana scorsa parlamo della Peugeot questa settimana abbiamo il 40% i prezzi più bassi d'Italia per quanto riguarda la Citroën e abbiamo le C3 Shine anche allestimento Shine per i freschi patentati abbiamo degli sconti pazzeschi e ricordiamo che il gruppo Autoscala direttore e anche tutto lo studio ha più di mille autovetture in pronta consegna io nel mio piccolo, nel mio gnovo voglio dire una cosa per quanto riguarda la partita a Salerno allora, il Napoli comunque ha vinto ha vinto il Napoli e nonostante questo c'è comunque chi non è a favore di Raspagol chi per esempio vorrebbe un nuovo allenatore c'è Kia Vocot, Kia Vocrud noi abbiamo le Kia Sportage totalmente elettriche che fanno 600 km di autonomia è talmente bella la Kia direttore che quando la vedi dice Kia e Kia lascia più Gruppo Autoscala una marcia in via bravo, bravo, bravo anche il suo pubblico capito? bravo anche i suoi fan bravo eccolo lì l'abbraccio con il direttore bello è il calcio 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 Grazie a tutti.